ben tornati alla nottola di merva oggi parliamo di richard avenarius filosofo tedesco 1843 1896 e più precisamente parliamo della kritik der reinen erfahrung kritik critica der reinen erfahrung erfahrung esperienza dell'esperienza rein pura prima edizione leipzig lipsia 1888 1890 in due volumi l'opera fondamentale di avenarius questa critica voleva rispondere a kant e sviluppa la concezione appunto dell'empirio criticismo empirio esperienza un indirizzo epistemologico per cui la filosofia ha il compito di descrivere rigorosamente che cosa la reine erfahrung l'esperienza pura a differenza del positivismo l'empirio criticismo riconosce i limiti della conoscenza scientifica non vuole la metafisica vuole l'esperienza pura quell'esperienza che precede la suddivisione falsa fra fenomeno fisico e fenomeno psichico tale concetto dell'esperienza rappresenta l'elemento primo di ogni conoscenza in cui l'io e l'ambiente lo psichico e il fisico risultano tra loro inseparabili avenarius lo dice attenzione noi percepiamo l'io esattamente come percepiamo l'ambiente non c'è una scessione o meglio è con il processo dell'introiezione che si spezza falsificando il tutto l'unità originaria dell'esperienza dando luogo alle grandi contrapposazioni metafisiche materia spirito naturalmente res cogitans res extens qui ce l'ha come cartesio quindi questa introiezione è un processo da abbandonare da contrastare è una falsificazione dell'esperienza compito dell'empirio criticismo è di eliminare le astrazioni filosofiche che imprigionano l'esperienza per ripristinare il terreno unitario dell'esperienza pura i concetti con i quali le scienze considerano la realtà non hanno valore di verità ma solo la funzione organizzativa di organizzare l'esperienza secondo un principio economico di risparmio e questa è la teoria economica della scienza anche se i concetti scientifici non colgono la realtà servono comunque a interpretarla